C'è una totale assenza di pianificazione su temi che andrebbero affrontati in un certo modo e non a spot come usa fare l'amministrazione, lo dice la Commissione Ambiente e Sanità preseduta dal consigliere comunale Virginia Farruggia. È stata indetta una riunione importante tra amministrazione, ASP e ARPA sul problema sollevato da Emilio Giudice, direttore della riserva del biviere al Ministero dell'Ambiente della presenza dell'arsenico nelle acque di falda. La Commissione, dice Farruggia, aveva già incontrato l'ASP nella persona di Calogero Buttieri per discutere la situazione delicata dei pozzi di emungimento della piana di Gela e lo stesso Buttieri aveva confermato le analisi fatte dall'ARPA a nove pozzi a campione e per i quali la Commissione aveva chiesto di poter avere i risultati. Ad oggi non è arrivato nessun dato alla Commissione, così come i dati del monitoraggio acqua e aria chiesti in più occasioni alla Giunta. La Commissione, continua Virginia Farruggia, non è stata invitata all'incontro ma soprattutto non viene messa in condizione di operare per i cittadini come sarebbe nelle sue mansioni. Riteniamo propagandistico fare un comunicato stampa sull'arsenico senza aver avuto l'interesse di pubblicare i risultati dell'ultimo monitoraggio ambientale proprio sul processo dell'arsenico realizzato dal CNR di Pisa quando poi si dedige un altro comunicato di allarme sulla contaminazione di uno dei pozzi sempre della piana ad uso agricolo. La Quinta Commissione chiede che venga immediatamente aperto un tavolo sull'arsenico e che si dia evidenza della presenza o meno del contaminante sul territorio e chiede di pubblicare i dati scientifici sulla speziazione dell'arsenico del CNR di Pisa alla presenza del professor Fabrizio Bianchi. Piuttosto che dare notizie allarmanti circa la contaminazione di un pozzo ad uso riguo nella piana, si faccia una caratterizzazione seria della stessa, così da pianificare azioni puntuali a seconda delle risultanze. In questo modo si eviterà di devastare un settore già al collasso, quello agricolo, e soprattutto si cercherebbe di contrastare un debito d'immagine che la città ha da sempre subito in cambio di una sicurezza economica che così sicura non si è rivelata. Speriamo, dice la Commissione, che la Giunta si metta dalla parte dei cittadini creando le condizioni ottimali affinché Gela possa ripartire economicamente, prima di tutto, attraverso le proprie risorse e non, come sempre accaduto, subendo le scelte dall'alto da parte di investitori esterni che poco avrebbero a che fare con l'interesse del territorio.